Ciao a tutti i nesini, siamo qui in un nuovo video. Oggi apriremo insieme delle blind bags di Sbabam che trovate ovviamente in edicola. Ero molto curiosa di vederle, quindi le apriremo insieme. Ne ho sei mi pare da aprire con voi. Allora ovviamente arrivano tutte insieme al solito booklet libricino insomma. Eccolo qua. E costano 3,50 euro. Eccolo qua. Mini book più gadget. Qua ci sono i soliti cose sulle sirene, informazioni, pubblicità e poi i giochini finali. Ma a noi interessano le blind bag, quindi andiamo a vederle. Allora sono fatte così. C'era la serie Yu Yu Fairies, mi pare, Magic Fairies, che erano le fatine ed erano adorabili. Gli erano Rainbow e Galaxy. Così anche sono queste sirenette. Una parte Galaxy, tutti sui toni del fucsia blu e viola. E una parte invece Rainbow, quindi un po' più sui toni dell'arancio, bianco, giallo, eccetera. Qui pure ci ripete che il prezzo è 3,50 euro. E queste sono quelle che possiamo trovare. Alcune sono particolari. Questa cambia colore al sole, da bianca diventa rosa. Questa in acqua calda. Questa invece ha la coda d'oro. Questa glitterata, credo. Questa brilla al buio. Questa pure. Anche lei brilla al buio. Alcune hanno le coda glitterate, argentate, eccole qua. Sembrano tutte molto carine, quindi andiamo a vedere quali trovo. Tra queste non credo di avere preferite. Vorrei vederne qualcuna speciale, tipo magari una coda argento o dorata. Non mi dispiacerebbe trovarle. Andiamo a vedere. Ok, una è subito glitterata. Allora, adesso la andiamo a vedere. E all'interno c'è la sua card. Si chiama Brigitte. Eccola qua. Questa è di nuovo la checklist. Allora, vediamo se sta in piedi. Allora, ci sta se trovate il giusto bilanciamento. Però la testa pesa un po'. Anche con le feiri, mi pare, ci fosse con alcune questo problema che non stavano in piedi. Altre sì, ma dipende un po' dalla forma dei capelli. Comunque, allora, questa è appunto la prima che abbiamo trovato. È carina. La coda, appunto, è glitterata. E è tutta sui toni della rosa fucsia. Questa non credo che abbia nulla di particolare, a parte la coda. No, infatti, eccola. Comunque, dai, la prima è carina. Adesso andiamo avanti. Allora, adesso apriamo quest'altra. Vediamo un po'. Oh, questa mi sa che è una speciale. Oppure no, non lo so. Carina però, mi piace tantissimo come forma. Allora, lei è Gimena o Imena, non so bene come si pronuncia. Sì, questa è una speciale. La coda cambia colore. Con... Allora, eccola qua. Col sole. Che ora non c'è, quindi non so se riesco a farvela vedere. Comunque è adorabile. È troppo carina, sembra un sacco. Una pin-up. Anche la capigliatura mi piace tanto. E l'ancora qui è molto, molto carina. I capelli sono adorabili. E anche la posizione mi piace tanto. Questa sta sdraiata, diciamo. E è carinissima anche la coda. Questa, finora, è la mia preferita. Mi piace tantissimo. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po' chi altro troviamo. Un'altra glitterata. Ed è... Alba. Lei pure non pensa abbia nulla di particolare a parte la coda glitterata. Eccola qua. Stiamo trovando per ora tutte quelle rainbow. Non ho trovato galaxy. Vediamo poi se le trovo. Carina anche lei. Adorabile. Guardate che carina. Ha una tartaruga qui, nei capelli. Ed è veramente molto, molto carina. E lei sta perfettamente in piedi. Non ha nessun problema a stare in piedi. Poi, allora, vediamo questo. Vediamo. Ok. Lei chi è? Lily. Sempre delle rainbow. E questa invece cambia colore con l'acqua calda, la coda. Eccola qui. Molto carina anche lei. Non so se starà in piedi. Vediamo. Sì, sta in piedi. Perfetto. E questa ha una stellina come ferma capelli. E la coda diventa bianca con l'acqua calda. Poi, ultime due bustine. Vediamo. Carina! Allora, anche questa è rainbow. Ed è marina. È marina e ha la coda dorata. Quindi una di quelle speciali speciali l'abbiamo trovata. Che carina! Mi piace tantissimo lei. Veramente adorabile. Allora, lei sta in piedi. Perfetto. Quindi la lasciamo qua. Ultima bustina. Vediamo un po'. Un'altra rainbow. Quindi abbiamo trovato tutte le rainbow, mi sa. Questa è proprio Ariel, dai, palese. Questa si chiama Isabel. Eccola qua. E sembra veramente Ariel. Ha la coda verdina, i capelli rosso-arancio, insomma. E qua, come ferma capelli, ha un delfino. Che bella! Ci sono alcune più grandi, alcune più piccoline. Allora, questa pure sta in piedi. Però la capigliatura pesa parecchio. Però ci sta, ci sta. Allora, vediamo se le ho trovate tutte, quelle rainbow. Allora, vediamo un po'. Allora, loro sì, sì, ho tutte le rainbow. Esatto. Mi mancano quindi tutte le galaxy. Però sono adorabili. Questa qua che dorme pure era molto carina. Allora, vediamo qual è la mia preferita. Allora, eccole qua tutte. Sono veramente tutte molto 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 carine. E mi piacciono un sacco tutte. Un pochino meno forse la prima che ho trovato. Però le altre sono molto carine. La mia... Ecco, lei continua a cadere. Vabbè, lasciamola così. La mia preferita penso sia lei, comunque sia. Ma anche lei con la coda adorata mi piace tanto. Però lei penso che rimanga la mia preferita. Fatemi sapere anche voi nei commenti che ne pensate. E appunto, di questa la coda diventa fucsia al sole. E lei cambia colore invece in acqua calda. Ecco qua. L'ho messa in acqua calda e è cambiata subitissimo. Adesso sta già ritornando un pochino normale. Però è veramente veloce il cambio colore. Quindi mi ha impressionato. Di solito ci mettono di più. Questi sono stati velocissimi. E questa non riesco a farvela vedere. Perché oggi il sole non c'è. Quindi non saprei come farvela vedere. Insomma, però diventa fucsia. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra preferita. Se le acquisterete, io le trovo adorabili. Ve le straconsiglio. Alcune sono più carine di altre, secondo me. Rispetto a questa, magari. Queste qua sono più carine. Comunque, fatemelo sapere nei commenti. Io le adoro. E ringrazio Bavam per avermele inviate. Quindi, se le volete, le trovate in edicola. Io vi mando un bacione, un salutone. Vi ricordo di lasciare un pollice in su. Iscrivervi al canale. E restate sintonizzati per futuri video. Vi mando un bacione. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!